Boys, prima di iniziare vi ricordo che se andate all'interno dell'item shop, nella sezione supporta un creatore, e inserite il codice creatore FORTU, così come vedete a schermo, e poi accettate, da ora, ogni acquisto che farete, mi farà avere una piccola percentuale. Grazie mille a tutti quelli che lo faranno. Ciao a tutti ragazzi, qui è FORTUMER che parla e benvenuti in un nuovo video su Fortnite. Era un po' che mi chiedevate di fare il nuovo challenge in cui se succedeva qualcosa il video finiva, quindi ho deciso di portarne giusto una e poche altre arriveranno in futuro. La sfida di oggi, come avrete letto dal titolo, è se trovo un arco il video finisce. Vi vedo solo iscrivetevi al canale nel caso in cui non l'abbiate ancora fatto, e intanto ne andiamo in game. Ho voluto fare proprio questa sfida in particolare ragazzi, perché ormai la quantità di archi che si trova su Fortnite è diventata a tutti gli effetti un meme. Cioè, si trovano più archi che materiali. Magari con l'ultimo aggiornamento avranno diminuito la possibilità di trovarli, perché cavolo ragazzi, erano veramente veramente troppi. Quindi direi di andare semplicemente in game, di cercare di fare subito una kill eliminando il tizio sotto, e di vedere se effettivamente riusciamo ad evitare di trovare, almeno per il momento. A parte che già sta un tizio qui che mi ha letteralmente massacrato, prenderò subito tutto quello che aveva. Cercherò di fare meno tagli possibili, ovviamente, altrimenti la gente potrebbe dire, è fortu, sì, ma tu hai trovato un arco e non l'hai fatto vedere. Quindi cercherò di farvi vedere tutto. Qui abbiamo subito una cesta, dai, che mi devo assolutamente curare, perché sto messo troppo male. Ma io ragazzi, io comincio veramente a credere che abbiano diminuito la probabilità di trovarli, perché a questo punto, nella patch... Oh mio Dio, state scherzando? Oh mio Dio, state scherzando? Oh mio Dio